Situazione Covid, si parla adesso per gli studenti delle superiori di una didattica completamente a distanza, quindi sarebbe da eliminare anche quel 25% di presenza nelle scuole. Sta proprio cambiando tutto dopo l'ultimo decreto di Conte? Questa cosa del 100% però attualmente in mattinata è una voce di corridoio. Noi non abbiamo nessun ufficiale documento del presidente regionale Marsilio, lo stiamo aspettando in mattinata con ansia. Se così fosse ci lascerebbe ancora più amareggiati. Io spero che il presidente della regione possa riflettere su questa cosa, perché ci servirebbe sicuramente per gestire l'attività didattica di tutti i ragazzi con bisogni educativi speciali. Abbiamo visto già l'anno scorso che specialmente quelli più gravi sono andati in grande difficoltà. Quindi già il ministero aveva dato questo input alle scuole che in caso di organizzazione di didattica a distanza dovevano essere esonerati i ragazzi con bisogni educativi speciali. Grazie a tutti.